E ieri è successa una cosa straordinaria, l'azienda PetroCeltic a cui è stata data l'autorizzazione per bucherellare il mare attorno alle Tremiti ha detto al governo no grazie ed è veramente paradossale che viene fatto un regalo alle aziende e questa azienda non ne ha nemmeno bisogno. Questo è un segno veramente di confusione del governo, evidentemente non ha nessuna strategia in campo energetico ma anche in termini di sviluppo dove si vuole portare il paese è veramente paradossale quello che è accaduto ieri. Facciamo un regalo e l'azienda dice no grazie.